Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, come potete vedere sto sempre meglio, sono appena arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento, qua sono a Santa Lucia, il mio centro di riabilitazione, qui a Roma dove rimarrò per un bel po'. E niente, sono contento, sto bene e volevo semplicemente ringraziare quelle persone fantastiche che lavorano presso l'ospedale San Camillo di Roma, che veramente tra medici e infermieri mi hanno dato la mano non solo fisica ma anche proprio morale, non do poco, tutta la squadra dell'accelerazione che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore. E niente, adesso io sono qua, non voglio l'ora di dar tutto, tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile, perché veramente qua ci vuole rimanere poco. E niente, ci aggiorniamo sui social, grazie di tutto il supporto che mi state dando, io anche se non riesco a rispondere a tutti quanti giuro che leggo tutto, tutto, tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date. E niente, un abbraccio fortissimo a tutti quanti, a presto e niente, adesso si inizia l'allenamento.